ciao a tutti questo video è registrato per una serie di incontri che sono stati organizzati sul pensiero di mario pergnola io cercherò di dare una presentazione di introdurre la sua ricerca filosofica per forza di cose non riuscirò ad esaurire il discorso ma toccherò alcuni punti che credo siano essenziali e poi per una trattazione più approfondita di alcuni aspetti specifici rimando agli incontri successivi e ovviamente ai testi in primo luogo in maniera molto generale cercherei di rispondere alla domanda chi era mario pergnola dal punto di vista filosofico accademico e così via in questa presentazione vorrei far emergere anche i classici del pensiero che hanno influenzato pergnola e al tempo stesso il dialogo con le tendenze contemporanee soprattutto a partire dagli anni sessanta così facendo proporrò una ricognizione dei concetti fondamentali elaborati da pergnola e in ultimo fornirò delle indicazioni bibliografiche sia per quanto riguarda i testi pubblicati da pergnola sia in riferimento alla letteratura critica ora per quanto riguarda la formazione molto brevemente dopo la maturità classica e prima di iniziare filosofia pergnola aveva in realtà intrapreso gli studi universitari nella facoltà di giurisprudenza di torino seguendo tra gli altri i corsi di norberto bobio poi come ci informa nella nella sua autobiografia appena uscita ha deciso di passare a filosofia dopo circa un anno qui diventa allievo di luigi parison e conosce studiosi intellettuali da umberto eco nicola bagnano passando per gianni vattimo valerio verra e via dicendo è in questi anni che inizia ad interessarsi non soltanto all'estetica e alla filosofia ma anche all'antropologia culturale alla sociologia alla contro cultura e alla teoria della letteratura e infatti la sua tesi di laurea verterà proprio sul tema dell'autoreferenzialità nel mondo letterario gli autori su cui inizia a concentrarsi erano sotto certi aspetti soltanto emergenti all'epoca siamo negli anni sessanta parlo di blanchot derrida battaglia artaud debor solo per citarne alcuni mi soffermerò comunque più avanti su sulle pubblicazioni in questi anni nel 1970 diventa professore di estetica a salerno dove insegnerà per tredici anni finché dall'ottantatré al duemila undici non ricoprirà la cattedra di estetica all'università di roma a torbergata ora senza qui ripercorrere l'etrogenità dei corsi delle conferenze dei seminari che pergnola ha organizzato e promosso a torbergata e praticamente in ogni angolo del mondo vorrei comunque menzionare il centro studi linguaggio e pensiero che era stato fondato da pergnola e attualmente è coordinato da Luigi Manfreda che è ancora attivo allo stesso tempo sul finire degli anni sessanta pergnola si interessa alle avanguardie artistiche in particolare al surrealismo e al dadaismo si avvicina anche a quella che in un suo testo definisce l'ultima avanguardia storica del ventesimo secolo l'internazionale situazionista come è noto si tratta di un movimento di critica radicale della società capitalista attivo principalmente in Europa ma non solo tra la fine degli anni cinquanta e l'inizio dei settanta nello specifico pergnola entra in contatto con il fondatore e maggiore rappresentante dell'internazionale situazionista con Guy Debord con cui intrattiene una corrispondenza tra il sessantasei e il sessantanove alcune di queste lettere sono disponibili anche online potete vedere i link nella slide oltre a questo pergnola ha anche fondato quattro riviste la prima Agar Agar uscita in cinque fascicoli tra il settanta e il settantadue era molto influenzata dai situazionisti e da una certa critica marxista dell'epoca sulla società l'estetica la teoria dell'arte dovrei anche avere alcune immagini eccole quella a sinistra è la copertina del numero di Agar Agar dedicato alla storia dei situazionisti situazionisti si sciolsero nel settantadue e pergnola fu il primo a scrivere una storia critica di questo movimento a destra vedete invece l'antologia completa sempre di Agar Agar ripubblicata l'anno scorso da Pigreco Edizioni con un saggio di Pierda Lavigna che ripercorre la militanza di pergnola in quegli anni e a cui rimando per una trattazione più approfondita di questi temi questa invece è un'altra rivista fondata da pergnola e attiva tra il 1988 e il 1995 Estetica News diretta da pergnola e da Giuliano Compagno era un quadrimestrale di ricerca interno alle università ma che allo stesso tempo cercava di individuare fenomeni che non si riducessero soltanto all'estetica accademica come per esempio i rituali religiosi del sud del mondo gli stati alterati di coscienza le esperienze estreme poi c'è Klinamen adesso non ho purtroppo una foto della copertina di Klinamen attiva tra sempre sul finire degli anni Ottanta e l'ultima rivista fondata da pergnola e Agar ma qui potete vedere alcuni numeri attiva dal 2000 il sottotitolo è rivista di studi culturali e di estetica e questo come dire è un indice molto capiente che comprende diversi campi del sapere lo vediamo anche da un poster che qui riproduco e che pergnola aveva creato nel 2015 l'aveva presentato ad un seminario della rivista Agal ma appunto vengono indicate le anime della rivista da un lato ci sono pensatori del novecento che sono diventati di culto come Batai, Klossoschi, Lacan, Debord così via ma dall'altro anche rappresentanti di tradizioni riconosciute da secoli o da millenni come Confucio. Ora Agalma è un è un progetto a cui pergnola ha dedicato gran parte delle sue energie intellettuali degli ultimi vent'anni quindi sotto alcuni aspetti se si vuole iniziare a comprendere o anche ad avvicinarsi al pensiero di pergnola mi sembra che questa rivista sia un ottimo punto di partenza perché tiene insieme tutte queste tradizioni di ricerca che hanno accompagnato pergnola per tutta la vita. Ci sono numeri dedicati all'estetica, alla filosofia, altri alla psicanalisi, alla teoria della letteratura ma anche al pensiero orientale, all'artigianato, alla critica radicale della società, all'outsider culture, all'urbanismo, al cinema. Quindi ecco non è facile definire Mario pergnola perché da un lato c'è l'aspetto accademico e universitario ma dall'altro va anche tenuta in considerazione la presenza dell'anima situazionista, del discorso dei riti religiosi, del sud Italia al sud del mondo. Penso al Brasile, al Giappone e lo stesso pergnola ha sperimentato per così dire sulla propria pelle la ritualità afro-brasiliana degli stati del Bahia e del Pernambuco ma anche del teatro d'avanguardia, l'arte contemporanea. Quindi da un lato pergnola si è tenuta all'interno dell'istituzione e dall'altro è sempre stato un frequentatore mi verrebbe da dire del marginale, del negativo, del differente e questa complessità emerge ancora di più quando cerchiamo di definire la sua figura. Pergnola in un suo volume Transity pensa al filosofo come a quella figura atopica, cioè senza luogo, inclassificabile per eccellenza. Anzi sostiene esplicitamente che avverte come riduttive quelle definizioni che in generale vengono affibbiate ai pensatori, filosofo del postmoderno, del simulacro, filosofo della differenza, del postumano e così via. Perché appunto la caratteristica che rende la filosofia unica secondo Pergnola è questo suo essere enigmatica, questo suo sfuggire ad una localizzazione univoca pur essendo in coappartenenza con la società e con quello che accade effettivamente a livello storico. Quindi il filosofo per Pergnola è innanzitutto colui che si fa vicario dell'esperienza del presente, che riesce ad essere posseduto da questo presente e dalla sua presenza, senza mai però scadere nella cronaca, nell'attualità, cioè nelle mode culturali. Ora, sebbene ci sia questa difficoltà nel definire una figura come Pergnola, abbiamo due definizioni utili comunque a questo scopo, che ci ha fornito lui stesso e che potete leggere qui. Una prima autodefinizione, presente in Tiresia contro Edipo, l'autobiografia postuma, quando andai a Parigi per la prima volta nel 1965, feci stampare un biglietto da visita in cui si ometteva il titolo accademico e c'era solo scritto sotto il mio nome, homme de lettres. E poi vediamo anche una seconda autodefinizione. La mia opera può essere considerata come una forma di neostoicismo barocco che è passato per l'esperienza delle avanguardie del ventesimo secolo. Ora, la prima abbraccia in particolare il Pergnola degli anni Sessanta e paradossalmente degli ultimi anni. Pergnola uomo di lettere, quando i suoi interessi gravitavano attorno alla teoria della letteratura e alla scrittura di romanzi. A circa venticinque anni, Pergnola pubblica il suo primo romanzo, Tiresia, e soltanto nel 2016 esce la sua seconda opera letteraria, la raccolta di storiette, su cui ritornerò. La seconda autodefinizione vale invece piuttosto a partire dagli anni Settanta in avanti. È qui che compaiono probabilmente i blocchi costitutivi dell'impianto teorico di Pergnola, lo stoicismo, il barocco e le avanguardie, come situazionisti, ma anche il surrealismo, John Cage. Ecco, in questa slide ho incluso un elenco dei principali momenti e dei pensatori della tradizione occidentale che hanno influenzato Pergnola, appunto dallo stoicismo alla religione romana fino ad arrivare ai pensatori del conflitto, da Baudelaire a Klossoschi. Sicuramente il barocco è uno dei momenti più importanti tra questi, forse quello che tiene insieme tutti gli altri, pur nella loro eterogeneità. Bacone scriveva che l'immaginazione consiste nel fare e disfare matrimoni illegali tra le cose. Pergnola amava molto questa frase, la ripeteva spesso, e si può dire che racchiuda il suo stile di pensiero. Fare filosofia per Pergnola è sempre consistito in questa abilità quasi sartoriale di ritaglio e di produzione di concetti, di esperienze, di nuovi orizzonti del sentire. Per Pergnola il filosofo non è mai semplicemente uno specialista, è anche quello certamente, ma è soprattutto qualcuno che sa unire il pensiero con la propria quotidianità, che per dirla alla Nietzsche di umano troppo umano, se non sbaglio, è una cavia dei suoi stessi esperimenti. Il carattere costitutivo della filosofia di Pergnola risiede proprio in questo tentativo di, anche di pensare gli opposti come coesistenti, come compresenti, ma che si mantengono, come dire, attivi senza una conciliazione finale. Quindi, sotto certi aspetti, è una filosofia antidialettica. Questa compresenza di stanze opposte viene percorsa ed esplorata da Pergnola all'interno di diverse tradizioni di pensiero, tra cui quelle che potete vedere qui, elencate, ma andando anche oltre. È, come dire, una costante del pensiero, una costante nella filosofia di Pergnola, il porre vicine cose apparentemente lontane e allo stesso tempo allontanare cose vicine. È in questi termini che, per esempio, Pergnola pensa alla coesistenza di indifferenza ed emozionalità all'interno del pensiero gesuita, o alla coesistenza tra atarassia e azione, nello stoicismo, il filosofo guerriero, o anche a quella tra i riti della romantica e l'effettualità politica, a quella tra perversioni erotica e filosofia nel contesto di una sessualità neutra, e via dicendo. Quindi, ecco, pur nella loro eterogeneità, queste tradizioni sono cucite insieme da Pergnola, secondo questo motivo ricorrente della compresenza di elementi opposti che, sotto certi aspetti, attrae l'individuo, c'è questa sorta anche di passività. È il sex appeal dell'inorganico, è quasi un appeal, è un richiamo da parte anche dell'elemento della materialità e delle cose. È un andare verso l'esperienza del farsi cosa, l'esperienza di divenire una cosa che sente, paradossalmente. Quindi l'unione della cosalità, di ciò che normalmente viene inteso come inerte, al sentire. E in un suo testo, appunto, che si chiama, intitolato Del sentire, Pergnola parla di specularismo, che intende come l'esperienza di divenire specchi. L'opposto rispetto al narcisismo. Nel senso che, mentre la persona specchio assume un atteggiamento di apertura nei confronti del mondo, come uno specchio che è in grado di riflettere su di sé ciò che è esterno, di far passare su di sé il mondo, di divenire il mondo, al contrario il narcisista è colui che vede specchi ovunque, cioè che vede ovunque riflessa l'immagine di sé. Quindi quando Pergnola, in molti dei suoi testi, parla dell'unione tra organico e inorganico, tra cosa e vita, tra inerte e attivo, non intende mai la dimensione della cosa in senso dispregiativo, come reificazione o alienazione, ma al contrario come condizione di apertura verso un sentire altro, un sentire capace di dire di sì al mondo. Ecco, lui chiama questo sentire neutro e rituale, che appunto non corrisponde a una neutralizzazione emotiva, ma piuttosto a una sorta di desoggettivazione, di critica alla tirannia dell'io. Ora, Pergnola ha rintracciato ed esplorato questa esperienza del farsi cosa in tutte queste tradizioni di pensiero e ha cercato di mostrare come questa sia essenziale per comprendere il mondo contemporaneo. Quindi i suoi sforzi vanno soprattutto intesi, secondo me, in questo senso, mostrare la coappartenenza tra pensiero, filosofia e azione e mondo contemporaneo. Ovviamente non tutta la filosofia, ma alcune tendenze che, secondo Pergnola, più di altre, anche se sotterraneamente, contenevano queste istanze. A questo proposito qui ho incluso una citazione che mi sembra molto utile per vedere la questione ancora più da vicino. La citazione è tratta dalla sua autobiografia. La leggo. Quanto a me non ho mai condiviso l'aspetto nichilistico del 68, del 77, del postmoderno, del postumano, del neoliberismo, dei cultural studies, del multiculturalismo. Non volendo perdere il contatto col mondo, sono stato nel movimento del 68, ma alla maniera di Guy Debord, difensore per eccellenza della cultura classica. Nel 77, ma con Fachinelli e la sua mente estatica. Nel postmoderno, ma con Lyotard e non con Vattimo. Nel postumano, ma con il sex appeal dell'inorganico, che è un approccio eminentemente filosofico e non consumistico. Nel neoliberismo, ma con Luke Boltanski e il suo terzo aspetto del capitalismo. Nei cultural studies, ma alla maniera italiana di Hagelman, e non secondo il modello inglese. Nel multiculturalismo, ma nel rispetto di tutte le culture pensate e vissute nella loro autonomia e non nel melting pot. Ora, questa citazione è interessante non soltanto perché Perniola fornisce una sorta di classificazione per decenni delle tendenze del secondo novecento e anche degli ultimi vent'anni, ma anche perché ci indica sostanzialmente il suo atteggiamento. Lui ha sempre cercato di essere in presa diretta col mondo, ma come outsider tra gli outsider. Per esempio, dalla parte della controcultura degli anni Sessanta, ma all'interno di questo campo, era prossimo ai situazionisti, e in particolare tra loro a Debord, che a loro volta erano considerati dei marxisti, come dire, eretici. E lo stesso vale all'interno del postmoderno, del postumano, dei cultural studies e così via. Quindi questo mi sembra un altro aspetto importante da tenere in considerazione. E qui ho cercato di individuare, anche a partire dalla citazione letta precedentemente, i concetti principali elaborati da Perniola. Negli anni Sessanta vediamo un interesse rivolto specialmente verso la teoria della letteratura, ma anche verso la critica all'eteronormatività, un qualcosa che è passato inosservato all'interno della letteratura critica, almeno fino a poco tempo fa. Penso al suo primo romanzo, Tiresia, un lungo monologo parzialmente autobiografico, in cui il narratore è gender fluid, i pronomi soggetto cambiano continuamente, dal maschile al femminile, e il lettore è continuamente spiazzato, continuamente non riesce ad identificare nemmeno il genere del personaggio, del narratore e delle figure coinvolte. Ora, Tiresia è stato ripubblicato nel 2019 da Mimesis e la sua autobiografia postuma, appena uscita, si intitola Tiresia contro Edipo, ed è interessante, tra le altre cose, proprio perché riprende molto degli interessi e delle questioni che animavano il perniola giovanile. Quindi sotto certi aspetti mi verrebbe da dire l'opera di perniola può essere considerata come palindroma, si potrebbe cioè iniziare a leggere anche dalla fine per comprendere l'inizio, perché perniola è proprio alla fine che è ritornato sulla letteratura, sulla dimensione autobiografica, su quella qui. Ora, accanto all'aspetto letterario, soprattutto sul finire degli anni Sessanta, perniola, come già accennato, era vicino ad alcuni ambienti della controcultura, come i situazionisti e l'Ud e molte riviste dell'epoca, e oltre a pubblicare su queste riviste, nel 1971 ha pubblicato un suo libro intitolato L'alienazione artistica, che è un po' la summa della teoria dell'arte del perniola della fine degli anni Sessanta. È un testo che cerca di mostrare come nella storia occidentale l'arte non sia mai riuscita a dare spazio pienamente alla creatività e al desiderio, e che quindi sia necessario un superamento dell'idea stessa di arte. Ecco, l'idea del superamento dell'arte era un'idea cara ai dadaisti, ma anche ai situazionisti, quindi, come dire, grazie a questo testo vediamo in che termini anche la filosofia e la teoria dell'arte di perniola fosse inscritta nei temi della controcultura dell'epoca. Questa è una tesi da cui perniola si discosterà negli anni successivi, ma che in ogni caso era influenzata dalla terminologia situazionista. Perniola negli anni successivi invece inizia ad avvicinarsi, a teorizzare altri concetti, non più tanto ispirati al mondo della critica radicale, ma pensieri e concetti debitori di Freud, Nietzsche, Heidegger e Bataille, i pensatori del negativo, della differenza e pensatori soprattutto del conflitto. Fino ad arrivare agli anni Ottanta con i suoi testi sul simulacro e sul transito, ecco, è da questo decennio che perniola inizia ad essere tradotto sempre di più e a diventare un pensatore di fama internazionale. Ora, ci vorrebbero ore e ore soltanto per avvicinarci a uno di questi concetti. Qui il mio obiettivo è soltanto esplicitarli, di modo che chiunque sia interessato possa poi fare una ricerca per conto proprio, considerando anche che molti articoli sono disponibili sul sito di Mario Perniola www.marioperniola.it Rimando a questo sito e ovviamente ai suoi libri per tutti i concetti che qui vedete elencati. Ora, prima di concludere vorrei comunque spendere qualche parola sulla bibliografia di Perniola, a cui ho proposto una selezione dei suoi libri pubblicati. Da un lato troviamo opere, per esempio, sulla teoria della letteratura, sulla teoria critica della società, appunto l'alienazione artistica, la società dei simulacri, ma al tempo stesso, per esempio, del sentire cattolico, del sentire o il sex appeal dell'inorganico, l'arte espansa. Quindi Perniola, nel corso della sua ricerca filosofica, ha unito religione, sessualità, comunicazione, tutti gli aspetti eterogenei della vita quotidiana e dei costumi degli ultimi decenni che spesso consideriamo inconciliabili. Quindi il suo può essere considerato come un percorso di estensione e di ampliamento dell'orizzonte estetico, che, come dire, non va a includere più soltanto gli elementi tipici di questa disciplina, la filosofia dell'arte, il gusto, il bello, gli stili di vita, ma abbraccia anche e attraverso gli studi culturali una panoramica molto più ampia e già dalla sua bibliografia ne possiamo cogliere alcuni momenti essenziali. Ecco, qui vedete alcune copertine contro la comunicazione, l'arte e la sua ombra. Perniola ha anche scritto un'estetica contemporanea globale e una italiana. Uno degli aspetti che merita più attenzione è sicuramente che queste non sono sviluppate secondo un ordine cronologico, ma secondo una chiave interpretativa specifica. Ora, attraverso capitoli come estetica e forma, estetica e azione, estetica e sentire, Perniola pone un confronto serrato e un dialogo spesso tra pensatori che finora non erano mai stati accostati, pensatori appunto sia dell'ambito italiano che di quello internazionale, degli ultimi 120 anni. Quindi è interessante vedere come Perniola, secondo questa strategia barocca, avvicini dei pensatori apparentemente lontani e faccia anche l'opposto. Ecco, questi sono gli ultimi due testi di Perniola del terrorismo come una delle belle arti, un libro parautobiografico e invece la sua autobiografia postuma, Tiresia contro Edipo, che è appena uscita. Volevo anche brevemente segnalare la ricezione del pensiero. Qui soltanto una selezione di seminari e convegni che fin dagli anni 90 si svolgono sulla ricerca di Perniola, ma anche, come potete vedere in fondo, anche opere musicali, teatrali, performance, che in qualche modo hanno attinto alla sua filosofia. E infine la bibliografia parziale dell'ultimo decennio. Ora la bibliografia Superniola è sterminata e anche da questo punto di vista rimando al suo sito, dove potete trovarla ordinata per anni. Uno dei primi a scrivere Superniola è stato Eugenio Montale, che nel 1966 aveva recensito il suo primo libro, il Meta-Romanzo, sul Corriere della Sera. Pochi anni dopo Pasolini aveva incluso Perniola in una sua poesia con l'intento di denigrare le sue posizioni situazioniste, solo per fare due nomi. Quindi ecco, Perniola già dagli anni 60 era molto vicino agli ambienti più vivaci della cultura e del mondo intellettuale italiano. Qui mi interessava più che altro mostrare che all'eterogeneità dell'opera di Perniola si accompagna anche l'eterogeneità degli studiosi, non soltanto italiani, ma da tutto il mondo, che si sono soffermati sul suo pensiero. Ultimamente poi sempre più libri, convegni e testi gravitano attorno alle sue teorie. C'è anche, per esempio, la sezione Perniola Studies di Agalma, la rivista fondata da Perniola, che da qualche anno appunto ospita a questa sezione permanente in cui vengono pubblicati testi di ricercatori, soprattutto internazionali. In ultimo, mi permetto di rimandare a due testi di prossima, di imminente pubblicazione. Uno che ho curato insieme a Massimo Di Felice sulla ricezione globale del pensiero di Perniola. e infine l'anno prossimo un altro che uscirà e che esplora, come dire, i concetti principali elaborati da Perniola e che affianca il suo stile ad alcuni dendi esemplari come Brammel, Baudelaire, Wilde, che è tratto in parte dalla mia tesi di dottorato. Ora, mi fermerei qui adesso. Mi accorgo di aver soltanto introdotto concetti, idee, movimenti. Spero che questa breve ricognizione contribuisca a mantenere vivo e sviluppare l'interesse nei confronti di Perniola. Grazie per l'attenzione. Grazie.